... Incidente sabato 11 novembre poco prima delle 12.30 a semaforo di Montalenghe che incrocia via Roma. Va a scontrarsi una Volkswagen Golf e una Ford Cuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vrea a Rivarolo e l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso e della Croce Rossa di Strambino. Ferite madre e figlia che erano sulla Golf, che dopo le prime cure sono state trasportate all'ospedale di Vrea. Illeso il conducente della Cuga. Grazie. 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 Grazie.